Buongiorno a tutti, Silvana De Mari, medico. Questa è la prima lezione di istruzioni per diventare infrangibili. Eh sì, noi siamo l'epoca della fragilità. Questa parola fragilità suona come l'intocchio di una campana morte e quelli che sono veramente più fragili sono gli adolescenti, al punto tale che essere genitore di un adolescente è diventata una dannazione. In tutta la storia dell'umanità, essere genitore di un adolescente era una pacchia. Finalmente è cresciuto abbastanza, può spingere l'aratro. Finalmente è cresciuta abbastanza, può badare ai fratellini minori, andare lei alla fonte. Anche perché l'adolescente aveva forza muscolare, energia, voglia di vivere, si inseriva nella vita. Adesso è un disastro. I genitori degli adolescenti creano addirittura dei gruppi di supporto, che è il tipo di cosa che si fa quando uno ha passato un guaio, non so, abbiamo tutti il cancro, creiamo un gruppo di supporto, ci hanno svaliggiato la casa, creiamo un gruppo di supporto, nostro figlio ha 16 anni, creiamo un gruppo di supporto. Che diavolo è successo? Negli ultimi 60 anni la depressione è aumentata del 1200%, il disturbo ossessivo del 1000%, i suicidi del 1000%, i disturbi alimentari abbiamo deciso di non contargli, perché altrimenti picchiavamo la testa nel muro. Eppure siamo nel primo periodo dall'inizio dei tempi dove non c'è stata una guerra, non abbiamo avuto una guerra mondiale, nessuno di noi che vive in Europa ha mai visto con i propri occhi un bombardamento sulla propria città, non abbiamo avuto un'epidemia. Certo, so quello che molti di voi stanno pensando, l'AIDS, una cosa terribile, lo so, io c'ero, facevo il medico, prima degli antiretrovirali, ma l'AIDS non ha le caratteristiche della vera epidemia. Per spiegarvi che cos'è una vera epidemia, la peste del 1300, quella descritta dal Boccaccio, ha ucciso un europeo su tre. La prima guerra mondiale è stata uno spaventoso bagno di sangue e costata 20 milioni di morti, eh sì, gli uomini uscivano e correvano contro le mitagliatici che sparavano loro addosso. La febbre spagnola, che è seguita dalla prima guerra mondiale, è costata 40 milioni di morti. Noi non ci rendiamo neanche conto di cosa voglia dire. All'epoca della febbre spagnola non esisteva il telefono. Voi andavate a trovare Zia Carmela il lunedì, Zia Carmela stava benissimo, tornavate il lunedì successivo, Zia Carmela era morta e l'avevano anche già fa seppellita. Non abbiamo conosciuto la fame. Beh, no, non è vero. La fame l'abbiamo conosciuta, certo, e tanta, perché dei disegnatori di abiti con idee molto bizzarre sull'anatomia del corpo femminile hanno disegnato abiti che andavano bene per donne con un indice di massa corporeo molto basso. L'indice di massa corporeo, se volete fare la prova, si ottiene dividendo il peso per il quadrato della statura e deve essere superiore a 20. Mentre la maggioranza delle modelle ha un indice di massa corporeo di 19, 18, 17, qualcuna anche meno. Non ci sono più mestruazioni dove non c'è grasso sottocutaneo per metabolizzare gli estrogeni. Non c'è più allegria. Noi abbiamo conosciuto la fame perché ci siamo autocondannati. Comunque, anche calcolando tutte le diete assolutamente folli pubblicizzate dai vari giornali femminili, che nessuno ha mai denunciato per pratica abusiva della medicina ed è un errore, perché la dieta è un atto medico, dare una dieta è un atto medico, dare una dieta sballata come ne sono state date, può distruggere il metabolismo di un individuo e può spingere questo individuo alle abbuffate. Comunque, anche calcolando tutto questo, non è stato un brutto periodo. Sicuramente la prima guerra mondiale è stato peggio, la seconda guerra mondiale è stato peggio. Bene, erano meno depressi. Come facciamo a saperlo? All'epoca non c'erano diagnosi, è vero, ma c'erano diari e c'erano epistolari, esaminando i quali non riusciamo a risalire. La gente poteva essere disperata, si aveva visto le persone che amava a morire, la gente era disperata se era in campo di sterminio, la gente era disperata se erano nelle trincee, ma un conto è la disperazione, un conto è la depressione, un conto sono i disturbi fobici. Stanno aumentando sempre di più i ragazzi sani, perfetti, che non vanno più a scuola, non vanno più a liceo perché hanno paura. Cos'è successo? Abbiamo perso la bellezza. Cari amici, siamo sicuri che ad alcuni di voi questo video è piaciuto molto e siamo sicuri che alcuni di voi avrebbero gioia a poterci aiutare a fare altri video come questo. Per farlo ci sono due modi, uno con una donazione a questo conto corrente. L'altro, sceglierci con il 5x1000 dando al vostro commercialista questo codice fiscale. Grazie